L'Isola dei Famosi, Brando Giorgi sull'assenza di Ferdinando Guglielmotti, era giusto ci fossi anche tu. L'Isola dei Famosi si è conclusa ed ha coronato come vincitore il giovane youtuber napoletano Odd, uno dei primi a sbarcare in Honduras e l'ultimo a lasciare la palapa. Brando Giorgi, uno dei naufraghi di questa edizione, ha mostrato tutta la sua delusione su Instagram per l'assenza in studio, durante la finale, dell'amico ed anch'esso concorrente Ferdinando Guglielmotti, scrivendo, era giusto che ci fossi pure tu in studio, certe dinamiche non mi abituerò mai a capirle. Abbraccio. Tanto ci vediamo presto. La delusione di Brando, che invece è stato ospite in studio, non ha tardato a palesarsi, e chissà che non arrivi anche la replica di Ferdinando. Brando Giorgi sorridente con Beppe Braida. L'Isola è anche questa. Pur mostrandosi deluso per la mancata ospitata in studio durante la finale di Ferdinando Guglielmotti, Brando Giorgi ha, mostrato, anche l'altra faccia della medaglia, mostrandosi estremamente sorridente e coinvolto. L'Isola è anche questo, ha scritto sotto una foto in cui si mostra sorridente con Beppe Braida e Gilles Rocca, a dimostrazione di quanto il reality quest'anno condotto da Ilari Blasi abbia dato l'opportunità agli uomini, oltre i personaggi, di creare dei legami veri e sinceri con coloro che hanno condiviso questa particolare esperienza, da Francesca Lodo definita una rinascita. L'Isola dei Famosi, il riassunto della finale, Odd vincitore. La finale dell'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Odd dopo aver visto i naufraghi alle prese con le ultime sfide e gli ultimi televoti della loro esperienza. Il primo a dire addio alla possibilità di vincere l'adventure game è stato Matteo Diamante, sconfitto al televoto proprio da Odd. Poi a seguire sono stati eliminati sia Andrea Cerioli che Ignazio Moser, che però hanno potuto rivedere le loro fidanzate sbarcate in Honduras per l'occasione, e Beatrice Marchetti. Alla fine della fiera, a trionfare è stato Odd mentre Valentina Persia si è qualificata seconda.